E' verità, ho già fornito le generalità in base alla legge, mi sono identificato in onore, ho esibito, sto registrando conversazioni in base all'articolo 2 e 3.4 penale. Ma lei può anche citare qualsiasi decreto, qualsiasi articolo e tutto quanto? Io non accetto contratti da voi. Non li devi divulgarlo, altrimenti purtroppo fanno... E' reale, è reale. Sì, 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 poi vediamo se è reale. Sì, non si può. Poi vediamo se è reale. Gli inviati vanno diffusi in tribunale. Ok, possiamo andare. Buona giornata. A voi.